A Ilarezzo e in persona sia io che la mia mamma siamo veramente molto contenti. Quando ho ricevuto la telefonata di Francesco la cosa ci ha veramente sorpreso e siamo rimaste commosse. Federico ha tirato i suoi primi colpi nei campi dello sporting, quindi il connubio è veramente meraviglioso. Ci aspettiamo una grande presenza di pubblico e ci sarà un angolo riservato ai ricordi, quindi con foto porteremo il libretto con la storia di Federico, le magliette, le uova di Pasqua. Sarà spero veramente una serata dove poter stare insieme, ricordare Federico e farlo conoscere anche alle generazioni che purtroppo non lo hanno conosciuto. La raccolta Fondi Aile è finalizzata al sostentamento dell'assistenza domiciliare, stiamo facendo grandi cose, abbiamo comprato diverso materiale per il reparto di ematologia e per il Day Hospital e stiamo seguendo diverse persone a casa supportandole nelle loro cure giornaliere. Questo evento che è organizzato è la dimostrazione dell'impegno che il comitato ha nel sociale. Infatti è bellissimo questo connubio che hai detto te tra sport diversi, però da un lato per ricordare il grande campione che è stato Federico Luzzi, campione aretino che tutti dobbiamo ricordare sempre e tramite il quale anche la sua famiglia ha un impegno importante con l'associazione Aile e alla quale noi abbiamo voluto dare il nostro supporto dando forza a questo progetto We Are su cui noi puntiamo tantissimo. Quindi già sappiamo di una grande partecipazione. A due giorni dall'evento siamo molto contenti, ma non smettiamo di auspicare ancora più partecipazione perché è aperto a tutti questo buffet al quale possono partecipare tutti quelli che vorranno sapendo di dare un contributo di beneficenza all'Aile. Oltre a questo noi stiamo facendo tante iniziative che sono sotto gli occhi di tutti, poi tra un po' verranno ancora di più formalizzate, tra le quali il fumetto che staremo per distribuire nelle scuole elementari, il campus con la collaborazione del liceo scientifico dove manderemo dei ragazzi in Inghilterra per una formazione. Tutto quello che facciamo lo facciamo con un fine sociale e propositivo, senza inchiodarsi al calcio, come sta dimostrando questo evento per uno sport diverso, ma perché il fine è sempre lo stesso. Aiutare e avere un risultato che gratifichi tutto il lavoro che viene fatto. Come ha detto la Francesca, questo evento è stato proprio ideato per dimostrare alle persone, anche alle generazioni esatto, quelle future, quelle di ora, che si deve lavorare nello sport tutti insieme senza pensare egoisticamente parlando ai interessi solo ludici. Siamo veramente contenti perché abbiamo già ricevuto la partecipazione di tutti i circoli, della società stessa dell'Arezzo, tutti si sono uniti di fronte a questa cosa e dimostra che il risultato è stato, prima di concludere l'evento, già ottenuto.